Sono nutrito di sentimenti e mi basta, cerco di migliorare e di imparare senza sosta. E ancora, sono un pallone pieno di bugie, ma nutrito dalla nostalgia, affogato in un mare di follie. Poesie, racconti, dialoghi, ma anche freddure che portano alla memoria l'umorismo surreale di Achille Campanile o le battute di Totò. Il commento è di chi ci ha creduto nel laboratorio di scrittura. I protagonisti sono i ragazzi detenuti nel carcere minorile Fornelli di Bari. Coinvolti per due mesi nel progetto Caffè Ristretto, ideato tre anni fa dalla sceneggetrice Teresa Petruzzelli, è portato per la prima volta nel carcere minorile su richiesta dell'assessore Paola Romano, che ha fortemente sostenuto il progetto. Caffè Ristretto è un caffè letterario per i detenuti, perché abbiamo sempre creduto fermamente che il cambiamento passa dalla cultura, l'interesse, non è soltanto intrattenimento, ma è anche una voglia di confrontarci veramente con il dentro, tra il dentro e il fuori. Come hanno reagito? Comunque hanno reagito in maniera molto positiva, perché sono venuti in maniera molto puntuale, hanno parlato di sé, e questo per un adolescente, indipendentemente dal fatto che sia ristretto, detenuto o meno, è difficile. Attraverso la scrittura i minori hanno tirato fuori sentimenti ed emozioni, hanno parlato di libertà, di musica, di famiglia. Evento finale è il confronto con gli scrittori e giornalisti Alessio Viola, Maria Luisa Sgobba, Francesca Palumbo e Trifone Gargano, che donando i loro libri hanno voluto dare un messaggio ai ragazzi. Avete una ricchezza tra le mani, la vostra gioventù. Leggendo questi racconti capirete che la vita è vostra e che c'è una speranza per tutti.